ahah eccomi arrivato alla base degli eroi mascherati ahah eccomi qua adesso provo il mio strumento per la clonazione Gekko devi riuscire a liberare Alet in un solo minuto vai adesso è difficile come fare Gekko su fai presto fai presto mi sono stancata a stare qui dentro ci sto provando Alet aspetta stop Gekko il tempo è finito ho sempre tanti problemi con questi lucchetti sono troppo difficili da aprire guarda Gekko ti faccio vedere è semplicissimo hop hop oppala e il gioco è fatto grazie mille che puoi l'importante è riuscire a prenderli oh che succede? ma cos'è successo a Catboy? ragazzi ma cos'è successo perché mi guardate così? ma cos'è successo? ancora una volta ma tagsaco ma come è possibile? hahhhhhhh nooo la mia macchina per la clonazione è distrutta! nooo Ah, Romeo! Adesso ti faccio vedere io! Oh, oh, oh! Oh, Giacomo! Cosa facciamo adesso con gli nostri cloni? Ci serve per forza l'aiuto di Master Tok Tok! Andiamo a chiamarlo! Hmm, cosa succede? Oh, tre Catboy! Tre Giacomo! Ma com'è possibile? Ah, ah, ah! Oh, oh! Ehi, ehi! Esci dalla mia macchina! Oh, ma è un manicomio! Oh, un ascensore! Ehi ragazzi, fermi! Ma così rompete l'ascensore! l'ho sistemato un giorno fa master dog talk ti prego fai qualcosa aiutaci mi è venuta un'idea portatemi un'altra gabbia ci penso io sì certo master dog talk arrivo subito gecko tu portami qua il camioncino con gli hot dog sarà fatto eccomi hot dog caldi hot dog caldi accorrete hot dog caldi oh sì vogliamo gli hot dog vogliamo gli hot dog anche noi anche noi vogliamo gli hot dog sì ma certo ma certo prego favorite uno e due prego è mio no no è mio no è mio è mio è mio ah ah siete in gabbia chiudo ah 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 siete in gabbia ehi lei lasciateci andare lasciateci andare serve riparare la macchina di romeo e eliminare i nostri cloni ma come fare come fare provo a fare qualcosa con questo lasciateci andare subito subito vogliamo divertirci ancora ehi 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 mi state disturbando mentre lavoro pronta proviamo se la nostra macchina per la clonazione funziona 3 2 1 funziona ragazzi perdonatemi mi mancherete ragazzi non sono riuscito a catturare romeo ma sono sicura che non tornerà presto ah ma non fa nulla l'importante che la macchina per la clonazione adesso è in mano nostra e al sicuro adesso ci penso io la nasconderò in un posto molto sicuro vado ok ragazzi ci vediamo alla prossima e con te ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao